Nel mondo del fitness ci deve essere un adeguato abbigliamento e incontriamo in questo Rimini Wellness un'azienda che ha fatto della filosofia del vestire sano e bene, un po' il suo sprono per andare avanti incontro Wear Essential con Elena Vitale, che cos'è Wear Essential, che cosa significa portare avanti questa filosofia e soprattutto cosa fa? Allora Wear Essential è una linea di abbigliamento multiuso nata da uno stile di vita molto molto attivo e anche molto incentrata sullo yoga, quindi diciamo che proponiamo delle linee molto essenziali, dei tessuti di alta qualità proprio per vestire donne molto impegnate che si gestiscono tra casa, lavoro, ufficio e che sono anche impegnate da un punto di vista sportivo Il payoff è Multi Wear Anytime Anywhere, quindi diciamo Multi Wear dovunque e in ogni momento L'altra payoff che abbiamo è in viaggio, in vacanza e in ufficio a casa tua L'idea è proprio una linea veramente utilizzabile in qualunque situazione, di giorno, di sera, d'estate, d'inverno, primavera, estate, proprio sempre La linea yoga è nata innanzitutto da una profondissima dedizione alla pratica e quindi anche lì abbiamo scelto dei modelli molto essenziali, comunque eleganti, in tessuti naturali molto comodi, molto morbidi e adatti a tutti i tipi di pratica yoga dal Kundalini alla Stanga, al Vinyasa, al Lata Yoga Rimane un po' il concetto del Multi Wear perché comunque sono capi abbastanza essenziali ed eleganti che si possono utilizzare anche al di fuori dello yoga Perché questa propensione al Made in Italy in questo settore dello yoga essential? Perché ce n'è bisogno? Ma diciamo che abbiamo deciso di fare un progetto abbastanza anche etico sotto tutti i punti di vista e in questo momento di crisi ci sembrava giusto anche supportare il sistema paese fondamentalmente e quindi abbiamo scelto tessuti italiani di alta qualità e dei confezionisti italiani nel rispetto delle tradizioni del nostro paese Tre colori Il bianco è il colore diciamo più essenziale dello yoga Il nero per l'eleganza e anche un po' per l'idea di vestire un po' tutti i tipi di donna E il blu è venuto fuori un po' per caso però ci sembrava un colore molto bello adatto sia all'estate che all'inverno e tra l'altro vediamo che piace molto Poi c'è un'ultima chicca che è un abito la cui particolarità è un po' di racchiudere sette abiti in uno Come si chiama? Quali sono le caratteristiche? E come lo si può indossare? Allora l'abito si chiama dress essential Si può indossare in sette modi diversi muovendo le maniche attraverso tre fettucce posizionate sul davanti E anche qui c'è proprio l'idea del multistagione perché d'inverno lo si può portare con le maniche lunghe Invece d'estate o la sera si porta senza maniche La stessa filosofia dell'abito si applica al nostro top Sempre in una viscosa diversa ma più leggera che si può utilizzare sia d'estate che d'inverno Sia come sotto giacca che invece la sera senza le maniche per una serata un po' più elegante, più estiva Feedback da parte del mercato dall'uscita del prodotto a oggi Il feedback è buono, diciamo che la cosa che viene più apprezzata è il fatto che sono capi che non si stirano In tessuti molto morbidi e comodi E la cosa carina è che con il fatto che tutti i nostri capi vengono venduti in questi sacchettini Che poi si possono utilizzare come pochette, consentono veramente di andar via anche una settimana con cinque sacchettini Quindi si viaggia molto leggeri E' www.wearessential.com e abbiamo anche un dominio yoga www.yogaessential.it Perché scegliere Wear Essential come azienda che rappresenti il proprio lifestyle? Perché diciamo che sono prodotti che si adattano a un tipo di vita molto attivo Ma che sono anche molto comodi, molto eleganti e di alta qualità Feel like I'm the only girl in the world Feel like I'm the only girl in the world